La fascia di capitano Antonino Gallo proprio non se l'aspettava, lo stesso terzino del Lecce ha riferito di essere rimasto spiazzato quando Mr. Gotti gliel'ha segnata, ma è lui quello che da più tempo milita fra i salentini, è arrivato a Lecce 5 anni fa e è cresciuto anno dopo anno, magari anche grazie ai consigli del suocero Giacomazzi, vice allenatore della Roma. Ora a spiazzare ci proverà tutta la truppa giallorossa, alle 19.30 contro il Galatasaray Club per 24 volte campione di Turchia e la seconda amichevole internazionale che Lecce affronta durante il ritiro austriaco per collaudare schemi e intese fra i ragazzi, la seconda dopo la buona prova offerta sabato scorso contro i tedeschi del Werder Brema, partita quella in cui si è messo in evidenza l'angolano Gaspar, giocatore elogiato anche da Gallo, il capitano ha espresso sensazioni positive sulla crescita del Lecce, nel quale, ha sottolineato il terzino, anche chi, vedi Rodriguez e Malè, è rientrato dai prestiti, si sta allenando col giusto piglio. In attesa dell'amichevole odierna, il Lecce lavora per portare in Salento il centrocampista Denis Pratt, trentenne belga, nelle ultime due stagioni al Leicester in Premier League. Pare che il calciatore gradisca tornare a giocare in Serie A, campionato che ha vissuto avendo militato nel Torino.